Quinto ospite della Centa Tiri, Dennis Gennari, romanista doc, lanciatore dello United Riccione, anno 2006. Presentati. Mi hai già presentato te, non c'è tanto da presentare. Sei venuto per fare il record, ricordiamo. Ha detto così? No, io non ho detto niente. Io rimango unico. Ha detto faccio il record, ora vediamo. No, rimango unico. Quanto pensi di fare? Non dico niente. Va bene, dai. Prima serie. Ciao, forte. Subito Biggie. Bimbo. Deve far gol per... Bello! Gulasso! Il numero 8. Uno. Il più speciale. Gella! Due! Però fa di meglio lui. Non fa un sorriso. Eccolo! No, al quartiere! 3 su... No, 4 su 6. 4 su 6. Mi hai insultato anche in stupido. Ah! Alta salvo. Quello è un guido. Conti tu, Luca? Sì, sì. No, cazzo! Ultimo tiro della prima serie. Ah, 4 su 10. Prima serie, 4 su 10. È ripartito molto bene. Poi gli ultimi tiri non ne hai fatto gol. Non è merda, non è merda. Però se continui così, arrivi a 40. Secondo me va molto bene. Seconda serie. Brutta questa, vecchio! Deve far più di 43. Attenzione, perché... 2 su 2, sbagliati. 2 su 2. Sta tirando molto male. Bello! Però questo è gol. La fiducia! Bighi! Intanto tira. E segna! Bello! Rasotera! Ha capito che deve tirare così. 3 su 6. Guardata micidiale. 4 su 7. Bighi, non devi fare le parate laser. Attenzione, il palleggio, c'è il tiro! Bello! Che gol! Neanche Gennari. Bello! Al 50%. 6 su 10. Quindi al 50% realizzativo. Terza serie. Inizia subito. Dennis Fior di Latte. Bello! 2 su 2. Saliamo. Bello però, quasi... Cos'è 2 su 3 questo? All'incrocio. Salza. Il tiro al volo. Ma che resto posso? Bambino, l'altra palla, guarda lì bianco. E dai. Per favore. Su, via. Che gol! Buon razio. La blocca lì. Senza volere. Attenzione, tira subito. Gennis! Gennis Denari. Passa quella, passa. Passagli subito quella, dai. Non a noi, cazzo. 3 su. C'è il gol. Eh dai. Eh dai, Bighi! Era lì davanti. Ciao, Bighi. Semplicissimo. Un tiro semplice l'ha fatto... Di nuovo 4 su 10. Matteo. 14 su 30. Quasi il 50%. Si è andato bene, però... Ti vedo un po' emozionato. No, no, sono tranquillo. Tranquillissimo. Pensi di fare 14 o ti migliori? Eh, hai fatto 14. Ah, sì, sì. Spero di farne 5. Sì, dai. Posto. Ciao. Bello! Buttati! Sei cagliolo! Bravo! Bordata, incredibile! 2 su 4. Il ragno di Meleniano! Fin di palo, lo scheggia. Sono col palleggiato. Vediamo se andrà prima a incrociare. Madre! Il portiere si è sdraiato. Dai, cazzi, fate una pena al portiere. Cacciatelo fuori, per favore. No, 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 no. Matteo. Bello questo! Matteo, sarà che va da indicare. Devo girare... Dennis Fiori di Latte! A numeri da record! A numeri da record! Come sta andando, vai? No, sta andando bene. 20 su 40 è perfetto, dai. Sì, metà. Metà, dai. Vai! Ma io, questo quartiere è meglio. Bravo, Biggie! Questo quartiere del cazzo. Bravo, Biggie! Attenzione. Non può partire così male. Vero su due. Ma perché pari così? Biggie si preoccupa da incanelto. Biggie, non pensarci. Biggie, dai. Biggie, ti stanno distraendo per il video. Eh, te l'ho pagato in jedda. Attenzione. Ah, boh, assi, portiere, voglio un po'. Portiere distratto, portiere distratto. Dove è il cucchiaio? Brutto, brutto. Che merda, Monti. Tu ora lo metti. Vai, ora, io, assi, portiere è merda. Passato. Portiere! I partaggi tua! Attenzione, Giannis Denari. Attenzione. Fa un passaggio raso terra spinto a Biggie. E ogni tanto capita nei 100 tiri. Mi è capitato per me, Fabio. Attenzione. Puff! Eh, dai. Dai. 3 su 8. E' io, abeluso, frate. Bravo, Biggie! Oddio, bravo, Biggie. Che merda. 23 su 50. Quasi il 50%. Come la senti nella gamba? No, no, c'è la gamba. Romanista, gamba romanista. Vediamo, vediamo. Bella, vecchio. Vai. Biggie, dai. Vai, Biggie. Chiama il QC, chiamalo. Sì, scusa, non c'è. Sì, vai, Biggie. Chiama il QC. 2 su 2. Vabbè, è meglio, vecchio. Dai, Biggie. Tra un po' fa buio. 0 su 3. 0 su 4. 0 su 4. Genna, la testa, Genna. Chiama è crescito ora, Biggie. Non ci credo, ecco. Ragazzi, questo è il Brasile. Riprenditi. 0 su 5. Cazzo, che sfiga. Bravo, bravo, continua così. Biggie, chiama il QC, ora che 6 su 6. Chiama il QC, beloso. Chiama il QC. Chiama il QC. 0 su 7. Chiamalo, Biggie. Gilbert Nanà. Biggie. 0 su 7, chiama il QC. No. Bravo, bravo, bravo. Almeno non... Biggie, ma perché stai tutto alla sinistra? 1 su 8. 1 su 8. 2 su 9. Ma sempre tutto. Bravo. Bravo, 2 su 10. Ogni tiro. Ogni tiro cambia il destino. Bravo, Biggie. Eh, niente, non lo chiama. Dai, Biggie, che è sta... Bravo, 2 su 3. Bello. Tira. Tira anche col sinistro. Preso. Preso 5. Dennis Fior di Latte. Il gol. Bello. 5 su 8. Bello. Dai, Biggie, però cazzo. 6 su 9, miglior serie. No, non è vero. Se lo fa. Se lo fa ora, sì. Guarda che è il mio. Super feloso. Bravo. E' il fascetto, al tiro. No, no, Biggie. La regione è felosa ancora. Mi sono zittisce. E' il genio della no. Ragnight. C'è Biggie. Sembra non arrivarci, ma è l'ultimo. Come i bambini. Però, Jenna. 4. Bravo, Biggie. Bravo, Biggie. Bravo, Biggie. 1 su 5. 1 su 5. Vecchio. Ma lo sai che tira lì. Di nuovo? No. Quanti pari ha preso? E che cazzo? Ma l'ha incrociato. Però ha tirato un po'. Siete tiri più noiosa? Ti sei mai visto? No. No. Non è vero. 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 Il gelataio. No. Questo è l'ultimo. I ultimi 20 tiri. Bravo. Sì. Per i prossimi mesi. Bravo. Biggie. Metti lì la X così si è andato a metterla. No. Biggie, ma lo sai che la mette lì. Allora, ho capito. Madonna. Spostati. Ma lo sai che la tira lì. Sta tryhardando il fascetta. Oh, vedi? Ora un po' così. Non farti. Più davanti ai 100 tiri. Bella Biggie questa. Mi è piaciuta. Dai. No. Mi ricordi. Vai lì in culo. No. Dai, brutta qua, eh. Attenzione! Biggie contro il Gendo. Parte la risa, attenzione. Biggie, lascia la palla lì. Quanto sono? Due su cinque. Ma fai faccia a faccia. Cosa fai? Tip-tok, no? È vero. Vai faccia a faccia. Gennis Denari. Tira alto. Non c'è più voi. Sì, sì, scusa, Gennaro. Dai! Non c'è più voglia. Non può superarti il ninja adesso. Non ci credo. Non ci credo. Io non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. No, veramente. Lei darò uno spuscio. No, veramente. No, veramente. No, 2 su 8. Bravo. Ma lo sai chi è la tira lì? 3 su 10. Le ho regalato 50 al segretti. Tutti i centrali. Ora, l'ultima serie. Vediamo quanto non riuscirai a fare. Io spero almeno nei 5 gol. Io dico 4. Ultima serie. 5 per superare il ninja. E uno già buttato. 15, cazzo. Bravo, Piggy. Se deve fare? Nel tuo tempo, vecchio. Su. Cazzo, cazzo. 3 sbagliati già. 1 su 3. Attenzione perché chiama il più uscito. Piggy, non do a prendere la palla. Guarda, Gennaro. Oh, Luca. Andiamo per il pericolo. Non lo prendo, guarda. Guarda che lo prendo. No. L'incrocio dove. Dopo li chiamiamo. No. Gennaro, 5 su... Ti mando ancora 7 tiri. È già uno. È uno buono. 1 su 4, dai. Bravo. 2 su 5. Dai, vecchio. È a 41. Sì. Si, Gennaro parte con il destro. Piggy. Piggy, la manona. Super, Mike, Biggy. Non ti puoi far percolare così, eh. Ci credo. Ci credo, non è gol, mi sa. Non è gol. Sei a 41, Gennaro. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Sfortunatissimo. Non ci credo. 2 su 8. Bravo. Attenzione, tiro della verità. Attenzione. Non è la verità. 3 su 9. Tiro della verità. Tiro. Gli butta mia il pallone. Tiro, attenzione, perché è una sfida personale tra Biggy e Gennaro. Ma gli faccia a faccia, Gennaro. Ha detto di mantenere... Che vaccino, non ci credo. Non buttarlo. Tiro. Vai zitto, oddio. Affanculo a partire. Bravo, Gennaro. Che vaccino. 43 su 100. Come è andata? Bene, bene. Cosa posso dire? Che un po' glielo ho regalati. Perché si lamentava che tiravo sempre da lì. Diciamo che è vero che tirava sempre da lì, purtroppo. Sì, tiravo da lì. Nel video lo vedrete. È vero. Poi ne ha messe due lì, di sinistro, non le ha prese. Poverì. Quello è stato molto bello. Sì, però glielo ho regalati un po'. Ho fatto... Ho sbagliato un po' di tiri, però... Dari complimenti, però. Grazie. Prossimo ospite, ma...